73 cani pastore sottoposti a visita clinica e vaccinati, mentre a 37 di questi cani sta applicato il microchip a cui segue regolare iscrizione in anagrafe canina regionale. Si è chiusa con questi numeri grazie al lavoro volontario del medico veterinario Luca Tomei la campagna di vaccinazione preventiva per il controllo delle malattie infettive nei cani delle aziende residenti nel territorio della riserva naturale Genzana e Oasi WWF Corre del Sagittario. L'iniziativa promossa dall'Area Protetta e l'Associazione Ambientalistica WWF Salviamo l'Orso Ollus da sempre impegnate a favore della conservazione del prezioso plantigrado ha visto coinvolte 5 aziende zootecniche ovi caprine nel territorio di Anversa degli Abruzzi che quotidianamente si muovono al pascolo con i propri cani. Dopo i risultati presentati dal Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise sulla positività dell'Orso Mario a numerose delle malattie infettive per cui si vaccinano i cani ad Anversa degli Abruzzi si è pensato di attuare un piano di controllo sanitario avendo come obiettivo quello della tutela della fauna selvatica presente nel territorio dell'Area Protetta Gure del Sagittario, area di enorme valenza naturalistica in cui la presenza dell'Orso Bruno Marsicano e lupo appenninico è da sempre documentata.